Non ci sono mezzi più potenti del Giro d'Italia in grado di raccontare i territori? Con queste parole il sindaco di Alpago e il presidente della provincia di Belluno hanno commentato la presentazione della tappa bellunese della prossima Corsa Rosa. Il 25 maggio 2024 infatti i corridori, che non affronteranno nessuna cima dolomitica, toccheranno la nostra provincia con la Alpago Bassano del Grappa. Dopo la partenza dalla Conca la corsa scenderà da Sella Fadalto per passare per Vittorio Veneto ed entrare in territorio trevigiano. Previsti poi anche due passaggi sul Monte Grappa prima dell'arrivo a Bassano. La presentazione è avvenuta a Trento in occasione del Festival dello Sport, un momento al quale ha partecipato anche l'ex campione Vincenzo Nibali, che ha definito la tappa bellunese molto complicata a causa della presenza di due passaggi sul Grappa difficili e non scontati. Per il comune di Alpago e per tutta la Conca il 25 maggio sarà una giornata storica, dichiara il sindaco Peterle. Nel 2024 ricorre il trentennale dalla nascita del Giro del Lago e i primi chilometri che verranno percorsi dai ciclisti saranno proprio sulle sponde del Lago di Santa Croce. Il nostro splendido territorio si presenterà al meglio. Ora, conclude Peterle, lavoreremo per preparare un calendario di eventi di avvicinamento. E tornando all'affermazione iniziale, il presidente Padrin aggiunge il giro conta 800 milioni di telespettatori e a ricadute economiche dirette a livello nazionale per oltre 600 milioni di euro, questo evento è in assoluto il miglior biglietto da visita per il bellunese.